Domenico 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 Mauro Prossa il granato! Stiamo prendendo Charlie. Signora di centro controllo. Udizia! Assassino. Abbiamo preso il comando. Stiamo prendendo A. Abbiamo preso A. UAV nemico individuato. Il contrattacco UAV è stato schierato. Stiamo prendendo B. Stiamo prendendo A. B sotto controllo. Il nostro UAV è online. Cielo unistogno! Approvvigionamenti per il nemico in arrivo. Stiamo prendendo Charlie! Approvvigionamenti per il nemico in arrivo. Stiamo prendendo Alpha. Abbiamo preso G! Missile predator alleato in arrivo. Approvvigionamenti in arrivo. Assassino. Tiratore scelto. Mira stabile. Cobra nemico in arrivo. Stiamo perdendo B. Bravo! Stiamo perdendo B. Stiamo perdendo B. Stiamo perdendo B. Andiamo. Abbiamo preso G! Abbiamo preso G! Tane�i per il nemico in arrivo! C'è questo che parli! Un anno fa l'iemico viene arrivato. L'imm somosata! Siamo aperti a casa. Il nostro 1B è online. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.